Iscriviamoci al consiglio comunale quando viene al giorno che voi congene domini a ritenere questo articolo, che qui non la ricordo più, impiegabile in questo caso. Io direi che però, devo dire, caro Scalcarello, penso che tu sarai molto d'accordo con me, ma molto molto d'accordo con me? E quindi avrete scontato l'assincronico voto di Efrani, che è il principio della felicità e della parentela fino al quarto grado, deve essere steso dottura a tutte le nomine che conti questo tema. Allora, in livello del Presidente, ma con un po' di coraggio, ma c'è un po' di coraggio, ma c'è un po' di risparmio. Tutti questi sono stati di risparmio. Con il coraggio, con il coraggio, io devo dire che sono di pari che sono un motivo di onore e di orgoglio. E non ci siamo mai stati, per esempio, che sono un consiglio coronale. Non ci siamo mai stati insieme nelle stesse istituzioni, mai, rispetto agli altri. Presidente, io mi ho promesso una prevedente, una ripresa, mi invito, ho detto, mi intervento, se commette l'innovazione, le proposte di funcio che vuoi, gentilmente, ai finali, ragazzi. Sono anche la terza di racconti, come? Non lo so, la terza di racconti, sì, ma è che può essere un consiglio, ma è che vuoi? La terza di racconti, ma è che vuoi e c'è un consiglio, perché mi sembrava questo, ma è un consiglio di racconti. No, prima del vigente calcio. Non è un consiglio di racconti. No, ma è il prossimo, assolutamente lo studente, ma è un consiglio di racconti, ma è un consiglio di racconti. Se invece sono una manca, ci credo più di racconti. Ah, no, ci credo ci credo, che non c'è. E' un consiglio di racconti. Che sai, perché è un consiglio di racconti. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.